Ve lo voglio dedicare con tutto il cuore, soprattutto grazie a Davide e a tutta questa grande orchestra veramente bellissima e voglio salutare anch'io anche Cristina e Roberto Novalis. Un abbraccio davvero da parte mia, Massimo e tutti noi. Grazie a tutti. Signori Collage Signori Collage Signori Collage Signori Collage Signori Collage Grazie a tutti. 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 Signori, buonanotte a tutti. Grazie. Cantando, ballando. Buonanotte.